Ciao ragazzi, sono Andrea e benvenuti in Double Pinball. Double Pinball è il nuovo negozio online per la vendita di pezzi di ricambio di flipper. Entrando in doublepinball.com potrai registrarti e acquistare i tuoi pezzi per abbellire o riparare il tuo flipper. Il sito è diviso in categorie e sotto categorie. Entrando nel sito doublepinball.com, nella parte sinistra dello schermo troverai un menu a tendina e lì ci saranno tutte le categorie. Una di queste categorie sono i gommini elastici. Molte volte quando andiamo a smontare i flipper, andiamo a smontare e cambiare le gomme, non sappiamo la misura esatta del gommino. Quindi cosa abbiamo creato? Abbiamo creato un file dove lo puoi scaricare gratuitamente sul sito doublepinball.com e stampartelo ed è questo. Ora ti mostro come funziona. Quindi con questo foglio puoi andare ad appoggiare i tuoi gommini e sapere esattamente la misura in pollici che ti serve. Una volta che sai la misura in pollici è facile andare ad acquistarli sul sito. Quindi sai esattamente qual è la misura del gommino, acquisti quello che ti serve. Eccoci qua, abbiamo stampato il nostro foglio e vediamo che sono molto semplici. Abbiamo delle circonferenze con nere e bianche con all'interno scritte delle misure, che sono le misure dei gommini in pollici. Quindi prendiamo il nostro vecchio gommino, io ne ho uno qua addirittura rotto. Cosa faccio? Cerco di metterlo più tondo possibile e vado ad appoggiarlo sul mio foglio e vado a cercare la misura esatta di questo gommino. Quindi questo gommino, posizionandolo sulla circonferenza, mi dice che è un gommino da 1 1 quarto. Quindi andrò a acquistare un gommino da 1 1 quarto e lo si può acquistare in gomma normale o a silicone, bianco e nero. Bianco trasparente, bianco e nero. Quindi questo è il nostro gommino 1 1 quarto, lo andiamo a appoggiare qua, è lui e acquistiamo la quantità che ci serve. Abbiamo anche, possiamo andare a vedere i gommini, quelli più piccoli, che li abbiamo qua sotto da 3 ottavi fino a 7 sedicesimi. Questo per esempio è un gommino da 5 sedicesimi e vedete che aderisce perfettamente, perché se lo metto su 3 ottavi è leggermente più piccolo. Quindi posizionandolo è perfettamente nel cerchio, quindi so esattamente la misura del mio gommino. Molto semplice, se ti è piaciuto questo video, lascia un mi piace, clicca il tasto qui in basso, il tasto iscriviti e rimarrai aggiornato su tutti i nostri video tutorial che faremo. Lascia un commento e fammi sapere cosa ne pensi. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima, doublepinball.com, passion for your pinball. Ciao ragazzi!